Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi siamo qua per discutere di temi alquanto spinosi ovvero parleremo di queerbait, queer code, queer catching, che detto così sembrano tutte cose molto complicate in realtà scopriremo insieme che non sono così complicate. Abbiamo anche il supporto dell'assistente per oggi, sei convinta? Secondo me no, vabbè. E quindi torniamo su questi schermi per parlare di un tema che volevo affrontare proprio visto che siamo nel Pride Month mi sembrava interessante, so che tanti e tante hanno dei dubbi su queste tematiche e quindi mi sembrava corretto cercare di fare un video dove esploriamo un po' tutto, scopriamo cosa significano e anche che pratiche assumono queste dinamiche ovvero queer code, queerbait e queer catching. In questo video ovviamente le affronteremo tutti partendo da una prospettiva storica andando avanti invece cercando di decodificare quelli che sono i prodotti dei quali noi usufruiamo Insomma, se siete stati sull'internet il termine queerbait è comparso in qualche vostra timeline che fosse su Twitter, su Facebook, su Instagram e anche tanto su Tumblr e su altri social Insomma, queerbait è un termine che viene usato spesso Insomma, tra le rimostranze della comunità LGBT e queer che chiaramente accusa di questo fenomeno molte produzioni l'attivismo che viene fatto chiaramente cercando di includere una rappresentazione più inclusiva, più corretta e più realistica anche i social justice warrior che tendenzialmente lo tirano fuori ogni due per tre ma anche chi guarda, legge o usufruisce comunque saltuariamente dei prodotti cinematografici, televisivi oppure libri o opere in generale, possiamo definirle è il caso di fare un po' di chiarezza Ogni volta che si tira fuori il tema del queerbait si crea del dibattito è inevitabile tra i canceller, cioè chi vede queerbait e vorrebbe eliminare dalla faccia della terra chiunque abbia fatto queerbait passando invece per chi vede queerbait ovunque a chi nemmeno ammette di fare queerbait a chi non lo vede mai a chi non se ne accorge passando poi per quelli che lo fanno in quanto autori, in quanto produttori di materiale e opere e che lo fanno proprio di proposito e anche in maniera spudorata passando poi per invece tutte quelle pratiche tutte quelle opere che sono correttamente indicate come queerbait i gradi sono chiaramente diversi, la situazione è abbastanza complessa e variegata ma non è impossibile da mettere a terra ricordatevi anche che il modo in cui i media in generale ritraggono, riportano, rappresentano determinate tematiche che siano tematiche queer, tematiche condizione femminile insomma le dinamiche di come dovrebbe essere la rappresentazione anche maschile eccetera eccetera il modo per dire in cui vengono rappresentate le malattie mentali le questioni di salute mentale, l'abilismo insomma questioni legate all'abilità del corpo sono dei riflessi non tanto di come queste tematiche vengono vissute in prima persona da chi affronta questi temi sulla propria pelle giorno dopo giorno e quindi ne restituiscono ovviamente una visione fedele ma piuttosto cercano di esprimere anche se effettivamente sempre meno ma comunque rimane il modello predominante non tanto il modo in cui queste persone vivono e sperimentano in prima persona determinate dinamiche ma il modo in cui la società le percepisce e le vede una società che spesso è del tutto ignara non sa nulla riguardo a queste tematiche e ne ha un racconto esterno molto lontano spesso sono proprio persone totalmente ignare di qualsiasi nozione riguardo un certo argomento e quindi ne hanno un'idea dominata da bias, da stereotipi insomma non è proprio la versione realistica che ci aspettiamo e quindi queste produzioni si occupano di riportare non tanto la dinamica come è in realtà ma come la società pensa che vadano rappresentate o rappresentando molto spesso l'idea che la società ha di queste tematiche molto spesso informando il pubblico della loro esistenza in quel modo lì torniamo a noi che cos'è il queerbait? che cos'è il queercode? che cos'è il queercatch? prima di arrivare al queerbait nello specifico però bisogna fare un passo indietro e partire dal queercode perché questi sono meccanismi che ci servono a introdurre l'argomento e ci danno innanzitutto anche una dinamica storica che diventa molto rilevante insomma quello che noi oggi chiamiamo queerbait da dove nasce, da dove deriva? quando la produzione cinematografica di Hollywood attorno agli anni 30 tentò di regolamentarsi, di autoregolamentarsi ben prima che il governo degli Stati Uniti emanasse alcuni decreti alcune leggi proprio riguardo al cinema e alla sua rappresentazione in pratica cosa il cinema poteva fare e cosa il cinema non poteva fare limitando ovviamente da un lato la libertà di autori, registi, sceneggiatori, scrittori eccetera eccetera e dall'altra anche cercando di decodificare il modo in cui il cinema poteva rappresentare certe cose ovviamente tutto ciò per mantenere la morale pubblica e in qualche modo influenzarla con il Motion Picture Code detto anche Haze Code, codice Haze Hollywood praticamente decretò il modo in cui il cinema e le sue produzioni si dovevano comportare in quegli anni ovviamente c'è una regola in particolare che determina numerosi scenari e implicazioni infatti cito non sarà prodotto nessun film che abbassi gli standard morali degli spettatori per questo motivo la simpatia del pubblico non dovrà mai essere indirizzata verso il crimine i comportamenti devianti, il male o il peccato è una frase molto vaga perché da un lato indica chiaramente che il cinema doveva occuparsi di una rappresentazione morale che tendeva a mantenere fede e mantenere alti gli standard dei valori morali della società americana e dall'altro però sosteneva in maniera abbastanza chiara alcune dinamiche diciamo l'inviolabilità, la santità dell'istituzione del matrimonio, della famiglia eccetera dovevano sicuramente essere sostenuti infatti i film non potevano in alcun modo rappresentare nemmeno incontri sessuali perché venivano considerati al di fuori dello standard morale insomma queste scene non erano assolutamente accettate l'adulterio, il sesso fuori dal matrimonio eccetera non potevano in alcun modo essere rappresentati come positivi molto spesso erano la dinamica negativa dell'intero racconto o in altri casi erano invece semplicemente sottaciuti venivano fatti dei riferimenti molto marginali e molto minimi a questo tipo di pratiche insomma non dovevano mai essere rappresentate queste cose come se fossero un'opzione attraente per il pubblico qualcosa che magari non aveva considerato figuratevi non era possibile nemmeno rappresentare una relazione tra persone appartenenti a diverse etnie perché in America c'era ancora la segregazione razziale quindi era impensabile rappresentare su schermo una relazione tra un uomo e una donna bianca e un uomo e una donna nera quindi figuratevi tutto ciò che rientrava in quelle che venivano definite perversioni sessuali ovvero tutto ciò che aveva a che fare con la comunità LGBTQA I+, eccetera eccetera quindi possiamo dire che insomma la produzione cinematografica americana che chiaramente insieme ad altre scuole come quella italiana, quella francese eccetera hanno dominato per tantissimo tempo e ovviamente quella americana ha preso sempre più piede nel nostro immaginario collettivo e quindi dominando il mercato ha così dominato anche il nostro immaginario collettivo era obbligata in qualche modo a non far mai simpatizzare il pubblico per temi tendenzialmente controversi una storia, un personaggio insomma qualche dinamica che in qualche modo li legava a questi temi che non venivano percepiti come positivi magari violenti insomma il pubblico doveva avere ben chiaro che il cattivo non era mai il personaggio con cui si poteva simpatizzare non lo si poteva apprezzare in alcun modo è per questo che proprio le dinamiche all'interno di queste sceneggiature tra gli anni 30 e gli anni 60 diventano improntate su una netta contrapposizione tra ciò che veniva considerato giusto e ciò che veniva considerato sbagliato le azioni che venivano considerate sbagliate andavano sempre rappresentate come tali non potevano avere delle sfumature o tutto era bianco o tutto era nero la rappresentazione di queste dinamiche doveva per forza portarle ad essere punite o comunque a essere osteggiate o addirittura del tutto eliminate diciamo che questo codice, l'Ace Code non era obbligatorio ma garantiva a chiunque si approcciasse al cinema che insomma se venivano rispettate certe dinamiche, certe regole le produzioni avevano molta più possibilità di avere successo e soprattutto di venire sostenute rappresentate proprio a livello economico insomma chiunque voleva lavorare trovare dei finanziamenti doveva aderire a questo codice non si poteva fingere che non esistesse e non tenerne conto ovviamente di nuovo questo non significa solo ciò che era legato al tema queer ma moltissime dinamiche e soprattutto si legava a tantissimi argomenti come la tematica femminile la rappresentazione degli afroamericani diciamo che sicuramente si può anche obiettare che negli anni 30 a nessuno sarebbe mai venuto in mente di rappresentare in maniera esplicita in una società conservatrice e bigotta come quella americana un amore queer un amore esplicitamente gay o lesbico su schermo o di mettere a capo della baracca un personaggio gay in un contesto culturale e storico di inizio novecento ma questo non è del tutto vero in realtà già negli anni 30 alcuni film anche se in maniera timida mai esplicita al cento per cento stavano iniziando ad includere alcune dinamiche e alcuni personaggi esplicitamente queer ovviamente chi più debolmente e chi meno ci sono alcune produzioni di questo periodo che hanno non troppo velatamente incluso personaggi un po' gender queer dove alcune donne erano esplicitamente lesbiche dove facevano cross-dressing insomma anche proprio dove la dinamica queer cioè il fatto di fare cross-dressing era parte integrante del personaggio diciamo che quasi nessuno di questi tentativi può essere inquadrato in quelli che sono i parametri attuali di una rappresentazione realistica intenzionale anche ed esplicita ed esplicita ma semmai possiamo considerarli dei primi timidi tentativi primissime esplorazioni per vedere cosa succedeva dall'altra parte come si sarebbe magari mossa l'industria cinematografica in seguito chiaramente la risposta è stata fermate tutto e imponiamo il codice Hayes rendendo del tutto impossibile la rappresentazione di qualsiasi personaggio vagamente queer con dei tratti positivi anzi addirittura per un lungo periodo nemmeno si parlava di rappresentazione positiva non potevano assolutamente esserci anzi proprio questo codice determinò che la rappresentazione queer diventasse un vero e proprio sinonimo di negativo personaggi destinati a un finale tragico ad essere brutalmente colpevolizzati per ciò che erano in questa rappresentazione manieristica grottesca e ovviamente bigotta il cinema americano in questo periodo che coincide proprio anche con l'inizio del periodo d'oro del cinema di Hollywood degli anni 50, 60 e così via in realtà aveva pochissimo spazio di manovra e idee sia sulla società che sulle sue diverse forme molto standard molto rigide molto ripetitive e sempre uguali quindi chiaramente questo codice non ha colpito solo la comunità queer come vi dicevo già anche prima però era impensabile per questo tipo di produzione avere ad esempio che ne so una protagonista femminile che non fosse una moglie una madre e che non aspirasse al matrimonio per esempio ma che vivesse un proprio ciclo narrativo che non tendeva a casarsi al fare figli o al salvare la famiglia insomma tutto bisognava che puntasse ai valori morali tradizionali o comunque a tutti quei valori che venivano considerati ammissibili e anche se sembra passato molto tempo il codice morale di quegli anni il codice ACE è tuttora rilevante e ha degli effetti anche sul presente nonostante sia stato ovviamente superato da tantissimo tempo ha determinato un vero e proprio modo di fare cinema che ha dominato e soprattutto ha reso forte la produzione americana e questo quindi ha fortemente influenzato l'immaginario collettivo e ne ha determinato la cristallizzazione di alcuni stereotipi nasce da qui un fenomeno in risposta che si chiama queer coding il queer coding o il codice queer la codifica queer traducetelo come meglio preferite è la rappresentazione subtestuale diciamo sottintesa interpretativa di un personaggio queer nei media dove in realtà l'identità queer non è mai esplicitata si tratta quindi di una tecnica narrativa che consiste nell'attribuire una serie di caratteristiche fisiche o comportamentali ad un personaggio di finzione allo scopo di renderlo interpretabile come queer insomma una vera e propria ambigua interpretazione ovvero si lascia alla discrezione dello spettatore decidere se quel personaggio è queer o non lo è senza mai esplicitarlo da parte dei creatori dell'opera ovviamente si tratta quasi sempre di caratteristiche molto stereotipate come l'eccessiva drammaticità dei gesti o una femminilità spiccata di alcuni personaggi maschili o l'esatto contrario o una spiccata mascolinità da parte di personaggi femminili puntare proprio anche su questa incertezza su questi tratti un po' ambigui rende ancora più ambiguo il personaggio Disney probabilmente ci ha costruito un impero sul queer coding pensate a tutti i villain a tutti i malvagi Disney prendo per esempio Ursula Scar e Ade che secondo me sono tre dei più accentuati sono personaggi chiaramente con caratteristiche che è un po' queer sempre da soli sempre slegati da relazioni eterosessuali sempre con questa gestualità molto accentuata tanto che infatti Ursula è ispirata a una drag queen Scar ha degli atteggiamenti molto effemminati pur essendo un personaggio cupo Ade è esattamente questo il classico personaggio pieno di battute super sarcastico pieno di acidità che ricorda molti degli stereotipi legati a una figura gay e tutti loro sono contrapposti ovviamente a dei personaggi maschili molto più accettabili e incoraggiati non ambigui e mai esagerati sono sempre agenti maschili potenti virili virili in un senso molto classico del termine portatori di ordine di prosperità e ovviamente gli si contrappongono questi personaggi che sono più ambigui meno netti sono usurpatori che devono a tutti i costi invece annullare la propria mascolinità la propria energia maschile sono infatti persone sessualmente ambigue o orientamenti sessuali più dubbi sono sempre portatori di disordine di caos di decadenza e di modelli di decadenza all'interno della società insomma i personaggi identificabili come queer code in questi casi o si si villain come li chiamano in molti abbondano in tutte le storie d'azione dove bisogna rendere molto netta la contrapposizione tra ciò che è bene e ciò che è male lo spettatore deve in fondo avere molto chiaro da che parte stare e soprattutto deve avere chiaro dove stanno i modelli buoni e dove stanno invece quelli cattivi quelli negativi insomma sono un metodo molto efficace per rappresentare alcuni modelli che non si confrontano mai da un lato con una parte magari più vicina alle proprie ambiguità femminili o comunque alla propria parte più femminile ma dall'altro lato invece che non si avvicinano mai a una componente più mascolina nella visione femminile non ci si confronta mai con la femminilità per i personaggi maschili positivi e non ci si confronta mai con la mascolinità per i personaggi femminili positivi insomma ovviamente questi stereotipi questi personaggi visti come negativi e rappresentati come negativi in realtà sono tutti personaggi che mettono in dubbio alcune ansie alcune agitazioni su ciò che è il binarismo ciò che è il genere e ciò che è l'altro genere insomma sono un po' più ambigui sono meno netti ma questo deve essere visto come negativo in fondo loro sono i malvagi è ovvio che parlare di queer code non significa solo parlare di questo tipo di stereotipi ma non tutti hanno avuto questa accortezza di cercare di camuffare alcuni personaggi LGBT perché magari alcune produzioni non consentivano la partecipazione di un personaggio appartenente alla comunità è ovvio che quindi non tutti siano degli stereotipi personaggi queer coded ma è anche vero che invece moltissimi personaggi queer coded sono grandi stereotipi quindi sono spesso personaggi maschili con attributi tipicamente associati al femminile o l'esatto contrario personaggi femminili con attributi associati tipicamente al genere maschile rappresentano molto spesso tutti gli stereotipi associati alla comunità queer e tutto ciò che si incastra in mezzo alla rappresentazione positiva di un genere o dell'altro diciamo che questi personaggi mettono in discussione tutto ciò che noi percepiamo come normatività come eteronormatività o normatività cisgender quindi binarismo quindi due generi ben distinti con caratteristiche che non si incroceranno mai chiaramente il queer coding in generale può avere diversi livelli e anche avere diversi gradi di stereotipo più o meno offensivi anche in forme molto più discriminatorie rispetto ad altri cioè per esempio quando questi tratti queer diventano il motivo per cui questo personaggio viene preso di mira viene attaccato viene deriso ed è chiaro che in quel caso il lettore e lo spettatore eccetera finisce per identificarsi in quelle persone che lo deridono quindi a concepire come caratteristiche da sminuire degne di derisione e quindi insomma a sminuire come spettatore come lettore il personaggio proprio perché presenta queste caratteristiche queer quindi associando la derisione quindi associando a qualcosa da ostacolare tutto ciò che è queer insomma si finisce per associare agli elementi legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere aspetti invece grotteschi innaturali ridicoli e svilenti oltre ovviamente al fatto che dentro queste opere molto spesso sono tutti personaggi che hanno ruoli negativi amorali e che vanno invece presi proprio come esempi negativi è un attimo che il pubblico finisce per associare e a quello che è successo alla comunità queer a questi tratti delle caratteristiche negative che di per sé ovviamente non lo sono non è malvagio di per sé avere degli atteggiamenti più effemminati o che vengono percepiti attribuiti al mondo femminile come non è vero l'esatto contrario quindi avere comportamenti o attributi tendenzialmente legati alla mascolinità pur avendo magari un altro genere però lo spettatore finisce per percepirli come negativi proprio perché vengono rappresentati come negativi li associamo ovviamente ai cattivi delle varie opere quindi per noi queer uguale negativo quindi per noi queer è negativo che sia negativo perché malvagio o sia negativo perché buffo degno di derisione mai da prendere sul serio una vera e propria battuta vivente diciamo che però la tecnica del queer coding nel corso degli anni che sono molto successivi anche al codice ACE è diventato un modo per fare il proprio lavoro in una maniera molto semplice senza nemmeno sforzarsi di fare una rappresentazione un po' migliore riguardo alle minoranze e riguardo anche a quelli che sono percepiti come stereotipi della comunità queer insomma si poteva fare un lavoro un po' più decente ma avrebbe diciamo richiesto una certa fatica insomma tendenzialmente se pensata tutta la produzione dagli anni 70 in poi è stata una sorta di ode di grande celebrazione all'eroi ipermascolino pieno di muscoli audace coraggioso e invece siamo stati tendenzialmente portati a non simpatizzare a non identificarci con invece eroi o personaggi meno mascolinizzati magari più sensibili o più vicini al mondo femminile sono contrapposti proprio perché bisogna contrapporre un modello percepito come positivo rispetto a un altro che va sempre condannato e va sempre identificato come il malvagio come vanno ovviamente condannati i valori che assume e incorpora il malvagio e chiariamo di per sé di nuovo il queer coding non è il male non è di per sé una dinamica sbagliata perché molti invece l'hanno sfruttata proprio perché non potevano includere personaggi queer nelle proprie storie e hanno comunque cercato di dare qualche indizio però con un aspetto un po' più positivo e meno stereotipato dall'altro lato nemmeno tutti gli stereotipi sono falsi e nemmeno sono tutti da identificare come negativi un personaggio molto drammatico e molto femminato non è sbagliato assolutamente ma è l'ottica e la luce sotto la quale vengono messi se vengono presentati e mostrati al pubblico come negativi e il loro ruolo nella storia è proprio sempre negativo sarà facile per il pubblico identificare queste dinamiche sempre come negative ed è chiaro che nella vita reale alcune persone che presentano determinate caratteristiche rischiano di identificarle identificarsi e venire identificati come negativi molto spesso anche proprio all'interno della comunità queer c'è chi prende le distanze ferocemente da queste dinamiche da questi stereotipi anche se di per sé ovviamente non sono negativi e non sono nulla da combattere ed è anche chiaro che rappresentare tutta la comunità queer secondo questi modelli è di per sé sbagliato insomma l'espressione di sé è il valore che più di tutti viene sostenuto dalla comunità queer ed è importante che sia così e come vi dicevo ancora prima per concludere e arrivare al succo su queerbait il codice ACE è stato diciamo abbandonato nel 1968 ma gli effetti che ha sulla produzione soprattutto cinematografica persistono in una maniera ancora oggi tangibile tra cui anche ovviamente la visione negativa o comunque la rappresentazione negativa di ciò che è queer coding arriviamo quindi al queerbait che è il fenomeno successivo è chiaramente molto dibattuto per i risvolti negativi che assume e che ovviamente comporta ma molto spesso non è sempre queerbait ciò che viene indicato come queerbait perché non è così facile da decodificare molte cose sono state nel corso degli anni bollate come queerbait giustamente altre volte diciamo la situazione era più ambigua altre volte ancora è stato del tutto sbagliato bollare come queerbait ogni volta che l'accusa viene rivolta a qualsiasi prodotto si accende un dibattito è proprio inevitabile insomma questo è queerbait realmente oppure quanti fan stanno vedendo qualcosa in più che in realtà non c'è non stanno leggendo magari troppo nel sottotesto stanno intendendo cose che in realtà non esistono stanno avendo le allucinazioni questo fenomeno ha chiaramente legato al queer coding ma assume e ha risvolti ben diversi e ora li vediamo traducendo proprio pari pari dall'inglese queerbait significa esca queer ovvero mettere uno o più elementi volti ad attirare proprio come fa un esca la comunità queer verso un determinato prodotto o contenuto e perché un esca? perché in verità l'elemento queer non esiste non c'è o comunque non c'è in maniera manifesta in sostanza l'elemento appetibile del queerbait cerca di attirare il pubblico queer senza alienare il pubblico più conservatore e cerca di fare tutto ciò nello stesso momento infatti l'elemento queerbait non è mai esplicitamente queer non c'è mai qualcosa di detto in maniera manifesta anzi in moltissimi casi tutto ciò è lasciato all'esperienza personale insomma può essere interpretato in maniera diversa secondo le diverse esperienze di vita quindi una persona magari molto conservatrice e che non ama vedere la rappresentazione di tematiche queer possiamo ovviamente dire omo bitransfobici interiorizzati o meno consapevoli o meno di questa loro riluttanza insomma le persone chiamiamole conservatrici eccetera eccetera non coglieranno mai questi elementi questi suggerimenti questi indizi di queerness ma li vedrà solo per ciò che sono esplicitamente su schermo quindi se c'è un'amicizia un po' dubbia non penserà che sfocerà in un'ipotetica relazione romantica ma che semplicemente fanno battute poiché è difficile che riesca a vederne ulteriori implicazioni se non le ha mai vissute in prima persona al contrario però invece la comunità queer coglierà e vedrà questi elementi per ciò che è la propria esperienza quindi in pratica secondo chi fa queerbait senza scontentare nessuno per modo di dire riescono ad accalappiare un po' tutti e senza esporsi particolarmente a chi lavora alla sceneggiatura alla regia e alla produzione di questo tipo insomma inneggeranno loro inneggiano ecco ma senza esporsi in prima persona senza esporsi in maniera manifesta diciamo che inneggiano sottendono ma non mostrano mai nella realtà lasciando aperto lo spazio ad alcune possibilità che poi effettivamente non vanno mai a mostrare nell'effettivo o almeno difficilmente ciò che nasce come queerbait o similare poi trova effettivamente ulteriori sbocchi in verità poi in alcuni prodotti diciamo sottintendere a dinamiche queer è stata una sorta di trampolino di lancio nel senso hanno tastato un po' il terreno e vedendo la risposta del pubblico hanno poi elaborato meglio nelle loro sceneggiature o nelle loro opere qualcosa diciamo nelle cose successive magari in una seconda stagione in un secondo volume eccetera eccetera diciamo che hanno proprio sondato le acque per poi esplicitarle ma perché succede fondamentalmente chi lavora nelle produzioni in sceneggiatura come regie eccetera sa bene che le persone appartenenti alla comunità LGBT e queer hanno fame sono assetati di rappresentazione e giustamente e consumeranno tendenzialmente quello che gli viene proposto perché per anni si sono sentiti lasciati fuori ai margini senza alcuna rappresentazione insomma quando tu elimini del tutto la rappresentazione e non crei uno spazio nel quale le persone possono rivedersi possono pensare ah ma sono io quella o io sono quello oppure mi riconosco oppure potrei esplorare quella cosa lì che non avevo mai effettivamente preso in considerazione spesso insomma ci si è accontentati di prodotti di qualità molto discutibile allo stesso tempo chi lavora in questo tipo di prodotti sa bene che non può scontentare il pubblico più classico quello che piace alle reti quello che piace agli editori insomma e quindi tendenzialmente sanno che questo tipo di pubblico non sarà così contento e così aperto all'introduzione di coppie o tematiche queer però fondamentalmente loro non riusciranno ad avere gli strumenti o comunque difficilmente coglieranno il sottotesto e badate bene io ho parlato di persone affamate di rappresentazione che è una necessità legittima ma non ho mai parlato di persone stupide ergo infatti molto spesso le persone appartenenti alla comunità queer non saranno per nulla accomodanti perché ovviamente i prodotti a ribasso non sono ben percepiti in questo momento c'è tanta consapevolezza ma anche la richiesta di una rappresentazione realistica ed è vero che i media sono effettivamente cambiati molto troppo lentamente ma ce l'abbiamo fatto un pochino a cambiare ed effettivamente ora abbiamo dei prodotti qualitativamente alti o percepiti come alti come la leggenda di Cora Shara Steven Universe e la rappresentazione tende ad espandersi a migliorare sempre di più anche proprio nei prodotti per ragazzi che erano quelli più ostacolati perché chissà che cosa fai vedere ai bambini l'amore i bambini non possono vedere l'amore insomma ora gli showrunners si sono resi conto che non possono continuare a far finta che un pezzo di mondo non esista e che devono considerare effettivamente l'ambito gay l'ambito queer in generale come un papabile pubblico anche meramente dal punto di vista proprio di posizionamento di un proprio prodotto o ricerca di persone che potrebbero essere interessate a un proprio prodotto e quindi insomma iniziano davvero a svegliarsi a valutare la comunità queer come persone che non solo hanno dei sentimenti ma hanno anche dei soldi e questa cosa finalmente inizia un pochino a spostare le cose rappresenta un piccolo ma si spera sempre maggiore cambiamento culturale quindi diciamo che il queer code di cui parlavamo prima inizialmente aveva questa rappresentazione tendenzialmente negativa o comunque spesso negativa perché partiva dal presupposto che l'attenzione di questi prodotti non era mai volutamente richiesta o rivolta a un pubblico queer perché non si pensava che potessero guardare il prodotto si negava la loro esistenza comunque si pensava che fossero una microminoranza all'interno di questo mondo tutto ci dice che non è proprio così quindi si pensava inizialmente a intrattenere un pubblico eterosessuale cisgender e davvero abbastanza conservatore pensate anche alle cose super trasgri insomma quelle magari considerate da di un certo cinema che esplora anche ambiti un po' più grigi così non hanno mai dei personaggi gay non hanno mai delle protagoniste lesbiche o in rarissimi casi per non parlare di ambito transessuale eccetera eccetera figuriamoci ma sempre comunque molto interonormativi nella loro trasgressività quindi ora si è arrivato a pensare che insieme ad un cambiamento culturale e ad una maggiore inclusione e discussione di queste tematiche anche nella politica chi lavora su questi prodotti si è iniziato a chiedere come faccio a farmi dare i soldi dalla comunità lgbt come faccio a far spendere alle persone queer del denaro per me che arrivi nelle mie tasche diciamo che appoggiandosi su una legittima necessità e voglia di vedersi rappresentati e rappresentate chiaramente poi si è cercato di espandere il mercato e trovare prodotti da proporre al pubblico queer però ancora qui ci sono numerose resistenze ed è per questo che il queerbait ancora è una pratica molto diffusa la pratica proprio di accennare mai rappresentare o mostrare esplicitamente una relazione romantica tra due persone dello stesso sesso di genere non definito transessuali eccetera eccetera diciamo che però sulla carta parlare di queerbait sembra abbastanza semplice ma in realtà se ci pensiamo a una definizione abbastanza vaga ad esempio se noi vediamo in un prodotto cinematografico in una serie tv uno scambio di sguardi tra due ragazzi come lo interpretiamo è queerbait? lo è anche lo scambio di una serie di battute di carattere un po' intimo? è queerbait asserire in numerose interviste che il tuo personaggio è gay ma puoi non mostrarlo mai su carta? è queerbait asserire durante numerose interviste che il tuo personaggio è gay senza mai doverlo effettivamente rappresentare nella realtà? ah ovviamente ogni riferimento a fatti o personaggi reali ma anche fiction è totalmente non casuale ciao jk se in alcuni casi ovviamente è palese la pratica del queerbait in altri casi invece è un po' più lasciata l'interpretazione personale e non esiste propriamente un'unica verità e un'unica visione quindi quando e quanto tutto ciò è lasciato solo alla nostra immaginazione ciò che vediamo nella nostra testa magari di fruitori un po' più attenti e un po' più svegli riguardo a certe dinamiche oppure quanto è accidentale involontario insomma non totalmente voluto e quanti e quando invece sono atti proprio volontari da parte di chi scrive chi dirige chi recita e chi lavora questo tipo di prodotti un trucco molto utile in questi casi ovviamente non vale per tutti però è abbastanza efficace è provare a scambiare il genere di uno dei due personaggi quindi magari se si tratta di una coppia di uomini quelli che stiamo prendendo in considerazione mettere una donna al posto del personaggio maschi di uno dei due personaggi maschili e il contrario se si tratta di due donne provare a pensare a uno dei due personaggi come un personaggio maschile e poi osservando come si comportano chiedersi è ragionevole pensare e sottintendere a qualcos'altro nella loro relazione o non vederla solo come una relazione professionale di amicizia ma vederci anche un aspetto romantico cioè è ragionevole aspettarsi che basandosi sulla sceneggiatura sui dialoghi su ciò che viene scritto su carta ma anche legato a tante altre cose quindi alle riprese gli angoli che sceglie di avere la fotocamera le inquadrature che vengono scelte la musica che viene utilizzata cioè tutti questi aspetti più tecnici anche l'illuminazione il linguaggio del corpo insomma sottintendono a qualcos'altro e se avessero avuto due generi opposti i due personaggi è ragionevole pensare che questa sarebbe diventata una relazione più intima partiamo dal caso più semplice cioè quello dove non è queerbait fondamentalmente e magari è del tutto accidentale quindi dove chi lavora alla sceneggiatura non ha mai avuto l'intenzione di creare una relazione tra due personaggi quantomeno non intenzionalmente quindi non hanno in maniera un po' ambigua e anche un po' meschina disseminato nel corso dell'opera indizi che potrebbero far pensare a quello possono essere stati accidenti che sono capitati magari anche più di una volta ma che non sottintendono ad una relazione tra questi due personaggi quindi in questo caso è lecito non considerarlo queerbait e considerare invece che ci siano alcuni fan alcuni affezionati che vedono qualcosa di più o lo interpretano come qualcosa forzatamente più intimo rispetto a ciò che è in realtà quello che accade effettivamente può essere incidentale poi bisogna anche capirne la frequenza è ovvio che se la frequenza è una volta appuntata non regge questa sorta di incidenza però se capita magari una volta all'interno di una serie capite che non può essere queerbait sarebbe stato ripreso molte più volte ci avrebbero giocato molto di più sicuramente ed ecco questo era un esempio semplice perché se capita veramente in maniera molto sporadica senza poi riprendere o venire ripreso nel corso della sceneggiatura ma anche a livello di regia o di fotografia la scelta di alcune inquadrature che magari non si soffermano non lo so sullo sguardo tra due personaggi su dei gesti sull'affettuosità eccetera allora è difficile che effettivamente siano atti volontariamente queerbait ma magari accidentali e molto sporadici poi andiamo proprio sul queerbait gravità abbastanza alta il queer catching è quella dinamica dentro il queerbait che scatole cinesi dove in pratica nei materiali promozionali nei trailer diciamo in tutto ciò che ha a che fare con la proporzione di un film o di un libro o di una serie tv insomma dei prodotti dei quali parliamo e dei quali ci avviciniamo insomma si parla esplicitamente di un personaggio queer che però poi o non ha realizzazione oppure vive una dinamica che con la dinamica queer non ha nulla a che fare insomma il parlare il raccontare e poi mai mostrare non vedere l'effettiva realizzazione dell'aspetto queer di questo personaggio o di questi personaggi può anche coincidere con l'atto volontario di non mettere o non esplicitare in alcun modo l'orientamento sessuale di un personaggio o la sua identità di genere la sua sessualità per poi dire retroattivamente che era un personaggio LGBT plus ed è chiaro che quando parlo di questo esempio ho in mente una persona ben precisa ovvero JK Rowling Silente è gay ma noi lo scopriamo solo in seguito durante un'intervista e vi dirò quando lei lo annunciò la prima volta io me lo ricordo e sarà che forse non ero così sensibile a determinate tematiche ma pensai beh fino lì ci sta Silente è un personaggio molto riservato sulle sue non era nemmeno troppo nel personaggio esplorare moltissimo questa dinamica sarebbe avrebbe stonato una persona che tiene Harry all'oscuro di tutto di tutto ciò che ha a che fare addirittura con la famiglia di Harry figuriamoci con gli affaracci suoi però poi questa prima fase è solo la prima fase poi di mezzo c'è stato Animali Fantastici cioè Fantastic Beasts dove di nuovo viene risottolineato numerose volte che Silente è gay in questo caso parliamo di Grindelwald e quindi in questo caso ci sarà per forza un richiamo a questo amore dannato eccetera eccetera poi uno guarda il film e i due personaggi si danno il 5 allo specchio e in questo caso è volontaria la dinamica che vi introducevo come queer catching cioè dire che Silente è gay che Silente bla 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 quant'altro in tutte le interviste poi guardando il film nell'effettivo non c'è alcun indizio così esplicito o comunque interpretabile come queer ed è chiaro che parte da una necessità che a distanza di tempio contestualizzando ora queste opere che chiaramente si inseriscono invece in una dinamica un po' più vecchia c'è un problema di fondo cioè la mancanza completa di inclusività di queste tematiche cioè una mancata rappresentanza che badate bene io non credo che rappresentare a tutti i costi o la rappresentanza sia del tutto necessaria in tutte le opere perché non credo nel tokenism cioè non nell'aprire una pagina e mettere ok metto il personaggio gay quello queer quella lesbica cioè non funziona così non è questa rappresentazione ma qua siamo ben distanti da questo tipo di cattiva rappresentazione cioè credo sia addirittura peggio cercare di mettere delle pezze in seguito vabbè anche perché abbiamo capito che J.K. Rowling è una mangiamorte e della comunità queer non gliene frega niente o gliene frega solo di una certa parte per i suoi interessi ma quindi lasciamo perdere e andiamo oltre quindi in pratica chi lavora a questo tipo di prodotti vuole tutta la pubblicità e tutte le entrate associate a avere una grande fan base una grande base di fan della comunità queer ma non vuole affrontare tutte le controverse o le implicazioni di una rappresentazione effettiva ad esempio la perdita di una parte del pubblico più legato a ambienti conservatori per dirla in maniera gentile che effettivamente non sarebbe traghettata nel guardare nel seguire o nel supportare certi prodotti quindi immaginano che la cosa migliore sia proprio fare un po' queer catching cioè cercare di afferrare il pubblico e tenerlo su quella sorta di confine sottile di un'allusione a una relazione senza mai esplicitarla in pratica cosa succede? si pubblicizza e si parla di un certo prodotto e di certi personaggi in un modo questi vengono presentati come tali cioè come queer ma poi effettivamente non ne abbiamo mai una prova perché la prova è sempre il testo la prova è sempre il filmato ma arriviamo alla parte facile quella dove il queerbait è talmente palese che non ci si può girare attorno allora c'è quello dove effettivamente ci sono queste allusioni molto esplicite o addirittura si porta ad enfatizzare e a feticizzare la comunità queer cioè vi faccio un esempio pratico nel trailer di Riverdale qualche tempo fa si vedeva questa scena dove Betty e Veronica si baciano appassionatamente per lungo tempo durante il trailer dando molto più che l'impressione che dentro la serie assisteremo a questa dinamica magari diventeranno una coppia e invece non è assolutamente così il trailer ha preso l'unica scena dove effettivamente le due ragazze si baciano per poi venire completamente decontestualizzato il trailer ha fatto proprio appositamente queerbait per attirare il pubblico queer e in più ha fatto ulteriori danni perché ha sessualizzato e feticizzato ulteriormente una relazione lesbica da un lato per puro queer catching e dall'altro per attirare anche un pubblico più eteronormativo tendenzialmente maschile ed ecco questo caso è palese è impossibile pensare che non sia stato fatto come un atto volontario non è accidentale non ci crede nessuno insomma in questo caso è molto esplicito l'uso che si è fatto di quella scena è stato messo lì per attirare il pubblico e poi per feticizzare questi due personaggi per attirare anche quel pubblico che poteva essere interessato a questo quindi in questo caso è un atto deliberato altro caso forse il più famoso è quello di Supernatural cioè la serie tv che ormai è bollata anche in maniera quasi troppo esplicitamente queerbait uno dei suoi personaggi principali cioè Dean Winchester fa regolarmente una serie di azioni allude a una serie di dinamiche o dice cose che sono progettate a tavolino per insidiarsi nella testa dei fan è molto più di un romance quello che viene rappresentato cioè molto più di una dinamica di amicizia o di una dinamica familiare ci sono numerosissimi riferimenti alla cultura gay a icone luoghi che fanno parte del mondo queer che chiaramente come spettatore o spettatrice se sei fuori da questo tipo di cultura difficilmente noterai questi suggerimenti questi indizi sottintesi che fa la serie ma che invece ha familiarità con questo tipo di cultura con questi luoghi con questo mondo è difficile non riuscire a cogliere sono riferimenti molto più che espliciti perché sono atti volontari cioè non possono non esserci così tante coincidenze così sistematiche all'interno dello show perché non si parla di un paio di casi si parla di decine e decine all'interno delle singole stagioni e spesso quando si fanno notare queste dinamiche insomma spesso si pensa che sia un po' sciocco farle notare sia molto sciocco cercare di insistere su queste tematiche ci sono molte cose che ingenuamente potremmo intendere come battute anche battute un po' esplicite un po' spinte come si fanno tra persone che sono molto amiche ma in realtà sono solamente numerosi indizi in Supernatural ancora ci sono molti riferimenti a un'ipotetica relazione romantica tra Dean e Castiel dimostrano che sembrino molto più che platonici senza mai però mostrarlo frasi del tipo Castiel con l'ultima persona che mi ha guardato in quel modo ci ho fatto sesso in una scena dove gli sguardi tra i due vengono continuamente alternati e ripresi con grande suspense e questo è solo uno dei più espliciti riferimenti ad una papabile relazione intima tra i due questa lista di battute molto simili a questa o riferimenti alla gay culture e alla queer culture sembra suggerire piuttosto esplicitamente che gli showrunner lo facciano molto di proposito sappiano benissimo che giocare sul queerbait attira del pubblico comunque piace oppure meglio dire che ci stanno davvero giocando sopra questa possibilità di una relazione romantica tra i due personaggi quando prendiamo tutti questi indizi disseminati nel corso di tutte le serie e all'interno di ogni stagione ce ne sono tantissime implicando anche che probabilmente uno dei due potrebbe essere bisessuale diciamo che è facile notare come gli sceneggiatori lo facciano tendenzialmente di proposito cioè suggeriscono molto spesso ad una possibile apertura ad una storia queer ovviamente gli showrunner e chiunque lavori a Supernatural ha sempre negato questa pratica però lo stanno ancora facendo quindi è molto facile che spesso quando si mette in luce una dinamica queerbait e quindi la negatività del queerbait insomma si dica no ma voi ci vedete di più le fang chissà cosa vedono in queste cose quindi derubricare queste legittime osservazioni a la lamentela di una fangirl o qualcuno che insomma vede cose solo nella sua testa però il pubblico ormai è ben consapevole che l'impostazione di questi due personaggi non solo è impostata su un modello che sembra romantico apposta se uno dei due personaggi fosse una donna non avremmo alcun dubbio e tendenzialmente avrebbero già esplorato quella possibilità avrebbero già creato una relazione insomma poi queste rimostranze il negare continuamente che si sta facendo queerbait è particolarmente indelicato perché ovviamente si pensa a fan sciocchi e deliranti e vengono tacciati come tali cioè addirittura gli attori stessi hanno negato questa pratica come se fosse del tutto in dubbia la impossibilità di una relazione tra due personaggi dello stesso genere ci sono ancora numerose limitazioni alla rappresentazione queer anche perché più corretto e volente eroso molti cercano sinceramente di proporre dei prodotti che includano queste tematiche e una rappresentazione più inclusiva e corretta che però vengono puntualmente censurati o respinti dalle produzioni perché sanno che incapperebbero in alcune problematiche non troverebbero probabilmente un mercato abbastanza ampio da sorreggere e supportare questi prodotti in alcuni paesi apertamente anti-LGBT difficilmente riuscirebbero a vendere i diritti e incorrerebbero in più nello sfavore di un certo tipo di pubblico che a quanto pare è ancora considerato il pubblico maggioritario in questi casi però ci sono delle pratiche che sono sul filo del queerbait ma non lo sono necessariamente anzi possiamo davvero vedere come molti autori e molte autrici cercano di scrivere sceneggiature che provino in tutti i modi e al massimo delle loro capacità di includere o lasciare un po' in sospeso la certezza sull'aspetto queer di alcune dinamiche perché se lo esplicitassero non sarebbero addirittura presenti diciamo lavorano in circostanze molto limitate e limitanti e quindi in qualche modo ci provano quindi in casi come adventure time oppure la leggenda di Cora perché non si parla di queerbait perché come vi ho appena spiegato è proprio importante tenere conto dell'intenzione autoriale sono magari persone che ci hanno provato in tutti i modi nella modalità che per loro era possibile il risultato non è sicuramente un prodotto perfetto né totalmente rappresentativo ma diciamo il risultato non dipende dalla volontà di accalappiare il pubblico queer per prenderlo poi anche in giro e diciamo non nasce da un'esigenza e da fini poco nobili altra resistenza da parte di chi dice che il queerbait viene sempre tirato fuori a sproposito è ovviamente la classica frase ma è un'amicizia non è una storia d'amore non è una relazione ma tra una storia d'amore e una relazione e la rappresentazione di queste esiste un'enorme differenza se confrontiamo la rappresentazione di un'amicizia anche molto intima e chi ha degli amici così stretti sa che spesso si sconfine si parla di cose molto personali che hanno spesso anche a che fare con la propria sessualità e la propria vita intima insomma in un rapporto forte è abbastanza normale trovare dei riferimenti alla propria vita sessuale non necessario chiaramente ma è molto probabile e diciamo che la grossa differenza tra una papabile coppia e semplicemente un'amicizia molto forte è che l'amicizia forte non viene mai rappresentata cercando di sottintendere a una possibile evoluzione romantica della relazione tra i due personaggi non si prospetta la costruzione di dinamiche o di suggerimenti che sottintendano a insomma a fare l'occhiolino a qualcosa che potrebbe diventare qualcosa di più non ci sono suggerimenti e gomitate diciamo da parte degli sceneggiatori pensate ad esempio a Scrubs cioè JD e Turks sono super amici praticamente loro vivono in simbiosi e hanno un rapporto anche molto esplicito tra di loro si dicono tutto anche le cose più imbarazzanti però da parte degli sceneggiatori non viene mai sottinteso un possibile risvolto romantico e un'evoluzione diversa della loro relazione sono personaggi che effettivamente discutono di tutto ma tra di loro a parte le gag ma sono gag che sono veramente super esplicite anche per il pubblico non viene mai sottinteso qualcos'altro cioè lo spettatore non si trova mai di fronte alla prospettiva che potrebbero effettivamente innamorarsi perché non vengono rappresentati come tale possono abbracciarsi condividere i propri sentimenti e generalmente essere molto vicini e intimi tra di loro ma questa intimità che è la base di una forte amicizia non viene mai decontestualizzata o sfruttata per rappresentare un indizio per qualcosa di possibile di papabile che potrebbe evolversi e realizzarsi all'interno della serie in fondo questa relazione tra i due non si verificherà mai e non ci sono indizi perché questo avvenga quindi in questo caso è giusto fare distinzione tra ciò che è volutamente queerbait e ciò che non lo è quando queste dinamiche funzionano in un certo modo oppure sono effettivamente interpretazione e in tanti casi ahimè non lo sono anzi è un po' modo per nasconderlo perché effettivamente la pratica del queerbait è una pratica negativa tranne in quei casi dove effettivamente non è queerbait ma è l'unico modo in cui possono venire proposti certi prodotti però ovviamente è difficile sapere quando effettivamente l'intenzione autoriale è più positiva rispetto ad altri casi nel caso di Supernatural ne abbiamo più che le prove direi io ho fatto un video lunghissimo spero che sia chiaro cosa volevo raccontarvi riguardo a tutte queste dinamiche insomma anche per prestare più attenzione ai prodotti che vi vengono sottoposti e come è giusto e legittimo secondo me pretendere una rappresentazione più inclusiva corretta e realistica ma anche semplicemente non continuare a supportare solo produzioni che tengono conto di un pubblico che è composto unicamente di persone eterosessuali bianche cisgender perché riescono a vedersi solo in quel modo lì anzi esplorare anche la rappresentazione di diverse dinamiche perché alla fine anche chi non appartiene alla comunità queer può tranquillamente seguire ad appassionarsi ad una storia d'amore anche se non è una storia eterosessuale per esempio ovviamente questo è un esempio minimo però insomma ci tenevo a fare anche questo video che insomma per questo pride month per una dinamica che secondo me soprattutto nella fiction soprattutto nelle storie per ragazzi e soprattutto visto che Voldemort ancora ce l'abbiamo sul coppone sono pratiche ancora troppo in uso soprattutto nei prodotti per ragazzi quando invece ci sono tante altre tematiche interessanti da esplorare niente io direi che per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto e che siate anche sopravvissuti e sopravvissute ci sentiamo giù nei commenti se avete degli esempi pratici perché sono interessata a vedere altre cose rispetto a questo o se avete dei dubbi su alcuni prodotti magari insomma lo chiariamo insieme direi che per oggi è tutto e per tutto il resto noi ci vediamo al prossimo video ciao